Un nuovo, intrigante capitolo sembra aprirsi nella vita di due personaggi super paparazzati, e la notizia della loro possibile love story, sta facendo impazzire i social media e forse anche gli ex compagni. Benvenuti su Reality Italiano, il tuo canale di notizie sui reality e sul gossip più intrigante. La scintilla del mistero è stata accesa dall'apparizione di una foto, una foto tanto innocente quanto carica di promesse. Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli, noti volti del mondo dello spettacolo italiano, sono stati immortalati fianco a fianco in un locale. Un incontro casuale o qualcosa di più? È questa la domanda che brucia nelle menti di migliaia di fan e curiosi. Ecco cosa sta accadendo ma prima metti un like al video ed iscriviti al canale per seguire da vicino questa storia. Da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, il reality show che ha catturato l'attenzione di tutti noi, non avevamo mai visto questi due intrattenitori così vicini fuori dagli studi televisivi. La domanda che si pongono tutti è, cosa sta succedendo tra loro? È amore, un flerto o semplicemente un incontro casuale? Noi andremo a fondo di questa storia misteriosa per svelare la verità. Avete mai vissuto un momento in cui un commento sui social media ha scatenato pettegolezzi nella vostra vita? Raccontateci la vostra storia. Ma la storia non si ferma qui. Nel fine settimana, Sonia Bruganelli ha condiviso una foto su Instagram, scatenando ancor di più i pettegolezzi. Antonino Spinalbese non ha perso l'occasione per commentare, dando il via a ulteriori speculazioni. Ma Sonia, con il suo tocco d'ironia, ha risposto in modo sorprendente. Le loro parole ci portano ancora più in profondità in questo enigma. Metti un like al video ed iscriviti al canale per seguire da vicino questa storia. Eppure, c'è una svolta inattesa in questa storia. Sonia Bruganelli ha sciolto l'enigma e ha svelato la verità. Nessun flirt romantico, ma una collaborazione intrigante in vista. Una nuova avventura lavorativa con Antonino Spinalbese, Federico Lampredi e Violante Bartalucci. I dettagli rimangono nascosti, ma sicuramente questo progetto promette di sconvolgere il mondo dell'intrattenimento.